Una terribile notizia ha sconvolto il mondo del calcio, colpendo un ex calciatore della serie A con un tremendo lutto. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Il figlio di appena 4 anni di questo noto atleta è deceduto in circostanze tragiche, scuotendo profondamente chiunque abbia appreso la notizia. L'annuncio straziante è stato dato dal club in cui l'ex calciatore, Naldo, milita attualmente. La notizia ha colto tutti di sorpresa, poiché nessuno si sarebbe mai aspettato una tragedia così inimmaginabile. Questo è un momento di estrema difficoltà per il calciatore, che ora deve affrontare la dolorosa perdita del proprio figlio. Naldo è una figura ben conosciuta nel mondo del calcio, avendo giocato nella serie A italiana indossando le maglie del Bologna e dell'Udinese. Il lutto ha lasciato tutti senza parole, e i tifosi da tutto il mondo si sono uniti nel supportare il calciatore in questo momento così tragico. Il figlio di Naldo era stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale per oltre un mese a seguito di un grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto. Le ferite riportate nell'incidente si sono rivelate troppo gravi, e purtroppo, il piccolo non è riuscito a sopravvivere. Questa perdita rappresenta un duro colpo per Naldo, che ha fatto parte di squadre di calcio di prestigio, tra cui il Getafe, lo Sporting Lisbona, il Krasnodar, lo Spaniol, e attualmente milita nell'Antal Sport. In questo momento difficile, il calcio e i tifosi si stringono attorno a Naldo, offrendo il loro sostegno e le loro condoglianze per la tragica perdita del suo prezioso figlio.